Questa è la grande famiglia del Lifeline Dolomites. Ci incontra la volontà diva per una volta protagonista su un paladino per il retrato e per una domenica di solidarietà e fradà. A molti giorni è da pozza, ma troppi di grado al Presidente Claudio Merighi, che le buone demotivare e ingaissare gli venne da tutta fascia e non demò. Ic, le braccia, la manz e il cuore di Carlo Spagnoli, la dina d'adozione, dottora missioner dell'Africa, che si è da giù per i purecci e i malè. È sempre l'amicizia che le ha tutte queste persone che sono volontative, tutti chi ha a curare il bene del più purecci e quindi in questo anno non possiamo stare a piedi a Carlo, dare forza e coraggio, perché è il stesso bene che è la visione sempre di avere bisogno a piedi, la gente che ha il bene e questa è una grande forza che si dà. Sapere che abbiamo alle spalle tutta questa comunità che viene poi da diversi posti del Trentino e anche oltre per i nostri progetti è di grande consolazione, ci dà tanta certezza per il futuro. Nel terzo anno che il cattivo tempo non ha dato il metto a amici e sponsor di fare festa a Tavalla a San Nicolò. Già ha passato a Giuseppe da Prà a Sudaricheras e ha una funzione di Gesiagrana a Pozza. Per Carlo Spagnoli, Lifeline Dolomitas è una famiglia che aveva il dodo dell'ideale, quello di sedere giù per i etras e per migliorare il mondo, tra l'amore del Signore Dio. Finito la messa, ero al momento della Marena sotto il tendone di Pozza, con liegne, polenta e fongas per amici e sponsor. Più che 300 gente. Questa è una tradizione che oramai da Enze fa sempre faccia con Lifeline Dolomitas di assicurare il supporto a Carlo Spagnoli e questo è un grande piacere e perché Carlo Spagnoli non può considerare faccia nella dinde che noi. Ho cominciato a puntare perché mi ha attirato il papà, però dopo, quando tu vedi che quello che tu fai porta dei buoni ragazzi, ti viene in cena un grande ragazzo a girare e a fare tutto quello che ti domani ha di fare. Nel spettacolo di Chanties e Bai, portadante da Mauro D'Alessio, insieme con la compagnia di Settuals, la sarà su la giornata. Il tempo è per un'ultima salute e per ringraziare a Decher, i dottori e il personale sanitario che della Zimbabwe ha metto sulla prima unità coronarica pubblica, con il dottor Bon Massarri, il dottor Catanzariti e la dottora Prisca Zeghi. Quest'anno, la manifestazione che hanno fatto, l'ha fatto un ente per dare importanza al care, perché noi sappiamo che Carlo ha avuto un infarto, i dottori e i medici da Trento e da Rurei li hanno salvato, perché Carlo dice che è bello che è morto e dunque il care di Carlo che l'attacca a rivivere, vince per noi un gran stimolo per dire in Ante di dare sempre di più. Se vede in Ante è un'altra sfida, mettere in piedi una scuola per i dottori, per rimanere fuori conoscenze e far rientrare il Zimbabwe in un paese sempre più autonome. Nel futuro, a parte questi bellissimi progetti che sono tutti nati durante il mio periodo di malattia in Trentino, ci sono poi anche quello di mettere una piccola scuola di chirurgia generale a disposizione dei medici generici della mia provincia, avendo avuto tantissime esperienze in questi quasi 40 anni di vita in Africa vorrei trasmetterla, l'ho sempre fatto in maniera sporadica ma vorrei farlo in maniera più sistematica, una piccola scuola di chirurgia di base.